in tutte maniere l'Empoli di rovinare la giornata del triunfo arancio-nero-verde. Il momento più bello si è avuto al ventesimo, quando il Venezia, sotto 1-0 per il gol in contropiede di Jacopino all'undicesimo, ha potuto usufruire di un rigore per fallo su Bazzani. Invocato a gran voce dalla curva, sugli undici metri si è infatti presentato il portiere Brivio, che ha trafitto il collega Bini. I lagunari poi sono anche riusciti a passare in vantaggio al venticinquesimo, grazie ad una bella girata di Bazzani imbeccato da Soggia. A trascinare l'Empoli alla rimonta è stato poi soprattutto un ispiratissimo Jacopino, che ha coronato la doppietta personale al trentunesimo direttamente su calcio di punizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.